Parliamo ora del fatto che in Polonia Katowice si è chiusa la conferenza mondiale sul clima COP24 dopo estenuanti negoziati. Vengono adottate regole comuni per attuare l'accordo di Parigi ci sarà un cosiddetto libro delle regole per renderlo operativo ma non ci sono di fatto impegni chiari per rispettare gli obiettivi di riduzione dei gas sera. Facciamo un bilancio con Roberto Giovannini, benvenuto della stampa, responsabile dell'inserto tutto green dedicato appunto all'ambiente. Ti aspettavi qualcosa in più da questo summit? Bisogna essere realisti e dire che è andata relativamente bene, cioè sarebbe potuto andare peggio. In realtà la diplomazia climatica è una brutta bestia, mettere d'accordo 193 stati è un compito pressoché impossibile. È già un risultato positivo che siamo usciti con questo rulebook che permetterà di mettere in campo le cose concrete che invece sono state quelle decise nel 2015 a Parigi. Quindi noi ci aspettiamo un intenso 12-18 mesi che sono quelli che porteranno alla conferenza sul clima del 2020 che è quella veramente importante. In base all'ultimo allarmante rapporto del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico c'è tempo solo fino al 2030 per mettere in campo cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti per impedire l'aumento della temperatura della Terra di 1,5 gradi. Si riuscirà a scongiurarlo? Allora, ovviamente dobbiamo sperare di sì e dobbiamo fare tutto il possibile per che questo avvenga. Se dobbiamo guardare freddamente allo stato delle cose, la risposta vera è no, perché non vediamo nelle popolazioni, non vediamo negli stati nazionali una volontà di mobilitazione convinta e compatta per fare le cose che sono necessarie. La speranza nasce non solo dal fatto che bisogna essere ottimisti e bisogna anche credere e darsi da fare perché le cose cambino nella direzione giusta, ma anche perché per fortuna un processo virtuoso più veloce di quello che gli stati e le diplomazie hanno messo in campo, lo stiamo per fortuna vedendo. Sempre più aziende, sempre più stati passano energie a fonti rinnovabili pulite, sempre più imprese hanno capito che la sfida della sostenibilità non è soltanto una cosa che si fa per far bella figura ma è una cosa che porta risultati, porta occupazione, porta sviluppo. Quindi le soluzioni tecnologiche sono alla portata e sono disponibili. C'è la speranza che questo processo virtuoso possa essere accelerato. È ovvio che sarebbe importante se i governi facessero fatti concreti. L'Italia per esempio si è candidata a gestire la conferenza sul clima del 2020 che ovviamente sarà un appuntamento molto importante. Sarebbe bene che oltre a fare gesti che sono simbolici, in questo caso importanti, ma pur sempre simbolici, l'Italia come altri paesi passino alla sostanza e ad azioni più drastiche per combattere il riscaldamento globale. In questo senso sappiamo per esempio come gli USA con Trump abbiano espresso più volte critiche riguardo all'accordo di Parigi e loro in un certo senso possono condizionare gli equilibri mondiali in questo senso? Lo abbiamo visto proprio in questi giorni in Polonia, la COP24 di cui abbiamo parlato adesso. C'è stato un dibattito che si è fermato per tanti giorni, per due giorni e mezzo addirittura su una cosa che sembra assolutamente simbolica. Se i delegati nel documento finale bisognava scrivere che applaudivano alle conclusioni della PCC, cioè del rapporto degli scienziati che ci dice quelle cose così un po' preoccupanti, oppure se i delegati delle diplomazie prendevano atto. Ora parliamo di parole, sembra il sesso degli angeli, un bizantinismo, però invece anche questo è una cosa importante. Quindi il ruolo negativo del Trump e di altri stati, perché poi bisogna dirlo, anche la stessa Polonia non è che ha fatto, si è stata così splendida. Ma naturalmente, così come i paesi del produttore di petrolio, l'Arabia Saudita, nessuno di loro vuole perdere soldi. È una battaglia complessa, perché ci sono in ballo interessi economici multimiliardari. A proposito di questione economica, c'è stata anche una poca chiarezza su come contabilizzare il finanziamento sul clima fornito sia dai paesi industrializzati che da quelli in via di sviluppo. Bisogna arrivare all'obiettivo di 100 miliardi entro il 2020. Diciamo, è una delle ragioni per cui alla fine, per chiudere la conferenza, ci sono voluti due giorni e i tempi supplementari. Alcuni stati hanno tentato una forbata, che è quella di contare due, tre, quattro volte gli aiuti economici, per esempio per la povertà e farli figurare anche per il cambiamento climatico. Però poi alla fine il risultato è stato positivo e attenzione, sono 100 miliardi non fino al 2020, ogni anno, quindi bisogna mobilitare risorse importanti. Però noi a un certo punto abbiamo pensato che i risultati potessero essere peggiori, invece non è andata così male. Bene, grazie Roberto Giovannini della Stampa per il tuo intervento a Rai News 24. Grazie a voi.